Un ragazzo nisseno di 27 anni, in stato di abbezza alcolica e con a bordo due ragazze, si è schiantato contro un'autoparcheggiata. L'episodio si è verificato nella notte, quando i carabinieri di Caltanissetta sono intervenuti in via Fasci siciliani. Nella fattispecie, il giovane alla guida di una Nissan Qascai è finito contro una Fiat Panda regolarmente posteggiata di proprietà di un 61enne. A bordo della Nissan, inoltre, si trovavano due ragazze di 25 anni, entrambe trasportate dal personale sanitario del 118 all'ospedale Sant'Elia, dove sono state curate e dimesse con una prognosi di tre giorni. L'autista, il ragazzo di 27 anni, è risultato positivo all'alcol test ed è stato quindi deferito per guida in stato di abbezza alcolica. Infine, gli è stata ritirata anche la patente di guida, con conseguente fermo amministrativo del mezzo.